Che cosa vuole? Vota sì per il centro commerciale, la foto non verrà fuori. Chi parla? Vota sì e nessuno saprà mai dei vecchi tempi in cui ti divertivi. Vai all'inferno! Che cosa faccio? Che cosa faccio ora? Sì, comunque non è successo niente. Se tu dici che non è successo niente, non ci sarà nessuno scandalo. Questa è l'unica prova che hanno per ricattarti e non è tanto grave da poterti screditare. Tu gli hai detto di andare all'inferno, quindi lasciali pure andare avanti. Con questo vuoi dire che la gente verrà a sapere di Denver? Sì, ma tu dirai che non è successo niente. No, no, non esiste che io mi presenti davanti a tutti e dica so che non sembra così, ma io non ho fatto niente. Stiamo ad aspettare gli sviluppi. E poi non è detto che succederà. Succederà, vedrai. Ci sono troppi soldi in ballo per questo centro perché mi lasciano in pace. A chi ti riferisci? Ai tuoi nemici? Orville incluso? Orville Lemon. Orville Lemon è sempre stato un amico di famiglia, mi ha visto nascere. Io non posso... Non posso credere che sia stato lui. Sono sicuro che saprai cavartela. Tutto qui, questo è il tuo consiglio? Non ne hai bisogno, sai meglio di me come comportarti. Oh, Vic. Sai, una delle mie colpe... Oh, solo una, mi raccomando. Va bene, una delle mie colpe è che a volte dimentico di dirti quanto tu sia importante per me. Grazie ancora di tutto. E io a volte dimentico di chiederti delle cose che vorrei sapere. Per esempio... Come dico a mia moglie che si deve fare così? Va via! Esci di qui! E grazie dell'aiuto! Oh. Sai, tesoro Orville, mi ha parlato tu per tu l'altro giorno. So che hai smesso di vederti con suo figlio, eh? Prova un po' questo, è carino. Non l'ho mai frequentato molto. Mi ha sempre invitata a cena, ma ho accettato solo una volta per non essere scortese. È un vero peccato. Quel ragazzo è magnifico. Ecco, prendi questo. Ha un solo difetto, è un po' stupido, ma è colpa dei suoi genitori. Non ti piace, eh? Da qua. Purtroppo i genitori non si scelgono. Mamma... Guarda che l'ho trovato. Fa schifo, lascia stare. Avanti, Pat. Lo so che devi dirmi qualcosa. Che cos'è? Sapevi che dove... Ma certo che lo sapevo. Vuoi dirmi che cos'è che ti preoccupa? Tu saresti dovuta essere la prima a vedere questa. Mi dispiace, scusa. Chi è il ragazzo? Oh, mamma... So, piangi. È la cosa più idiota che io abbia mai fatto. L'unica cosa stupida che abbia fatto in vita mia. Non parlare male di te stessa davanti a tua madre. Non lo sopporto. Oh, mio Dio. Vorrei che sei in fosse qui. Anch'io. Quello che più mi manca di papà è che lui riusciva a trovare una soluzione per tutto. Potresti sempre negare. Come fanno a Washington. Così la cosa va per le lunghe e poi finisce dritta nel dimenticatoio. Questa non ci finirà. Pat, sono ancora in contatto con tutti quelli che conosceva tuo padre. No. Non fare niente. Mi sono messa nei guai da sola e mi ci toglierò da sola. D'accordo. Ma ricorda quello che sto per dirti. Numero uno, avrai a che fare con tanta gente senza scru...